Sì, probabilmente è il risultato giusto, anche se a parte mia soprattutto c'è un rammarico enorme perché al primo tempo mi sembrava che la squadra avesse fatto la partita come bisognava fare, poi ha subito un gol evitabile, quindi poi rimontare su un campo così pesante, così era difficile, insomma le difficoltà sono uscite fuori, quindi c'è un rammarico per il primo tempo buttato via secondo me, al secondo tempo abbiamo fatto quello che potevamo fare.